Musica Benvenuti nell'atelier di alta orologeria della casa Jacques-Édreau. Il marchio Jacques-Édreau è una delle case orologiai le più antiche ancora in attività. Lo suo fondatore, Pierre Jacques-Édreau, ha aperto il suo primo atelier nel 1738 ed era nel XVIII secolo uno dei più noti e potenti orologiai del suo tempo. Oggi il marchio si sta sviluppando intorno a tre pilastri principali. Il primo si chiama il Grand Seconde ed è l'adattazione in un orologio da polso di un orologio da tasca fatto da Pierre Jacques-Édreau nel 1785. Il secondo si tratta degli automi. Pierre Jacques-Édreau e suo figlio erano noti per aver finito nel 1774 tre automi, ancora funzionanti oggi, che erano e sono ancora veretabili riproduzioni di esseri umani. Oggi facciamo la stessa cosa ma miniaturizzando questi automi in orologio da polso. Terzo pilastro, gli Atelier d'Ari. Abbiamo i nostri propri artisti, artigiani che lavorano qui nel nostro atelier sulla lavorazione, sulla decorazione ed è un sereologio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.